Mi trovo lungo la costiera Giuliana assieme agli amici della Pio Pio Aging Team e in questa nuova storia di pescatori vi parlerò di cefalopodi o meglio, vorrei parlarvi di cefalopodi ma non so ancora se riusciremo a uscire perché capitano ed equipaggio mi sembrano decisamente occupati Eccolo qua, tra l'altro lui è anche meccanico quindi se no non è capace di mettersi a posto la barca da solo E' grave Molto grave Scherzi a parte, in questa puntata vi racconterò di due scenari completamente diversi messi a confronto Ci dedicheremo ai cefalopodi da natante ma nella prima parte pescheremo ad Aging in primavera a caccia di deliziose seppie Questo è proprio un biscottino eh Un bonbon Questo è un bonbon da branzino Nella seconda parte usciremo invece in pieno inverno a Traina per pescare gustosi calamari Tanto va la gatta al lardo Che ci lascia lo zampino eh Eh sì, questa volta si è salvato Sei felice Dennis? Eh sì Eh sì E' una bellissima giornata di inizio primavera La nostra costiera si sta svegliando dal torpore invernale e un pallido sole inizia a scaldare i nostri stinti predatori Assieme a Walter e a Dennis usciamo nel nostro piccolo golfo con un obiettivo preciso Procurarci un piatto di seppie in sughetto con la polenta E per fortuna oggi troviamo subito una discreta attività Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti